Buon lunedì a tutti e buon ascolto amici sportivi e non, bisogna dire, una trasmissione che va in onda come sempre in diretta grazie all'insostituibile apporto dell'amico Jean-Louis e naturalmente di Stefano Berni, che in tutte le riprese, come sapete, inizio subito ringraziando chi lavora per questo staff. Presentiamo gli ospiti, a cominciare dal rappresentante del Compiano, penso, nome e cognome, Iban e tutto. L'Iban no, non dirlo perché non so mai. Francesco Mariani, Compiano. Compiano. Il basket invece? Gioral Luca, Valtaredo, Altarese. Calcio. L'Erasio Antonio, Calcio e Bedonia. Berni Sergio, dirigente bedonese. Benissimo. Ferrara Michelangelo, Borgotaro. Fiero Brindani, DS Borgotaro. Torniamo al basket. Andrea Ghiorzo, prima divisione Valtarese 2000. Benissimo. Allora, velocissimamente, dopo aver presentato gli ospiti, andiamo immediatamente a vedere la cosa dolente della nostra vallata, cioè la Valtarese. Perciò partiamo subito dando e mettendo in onda direttamente la classifica, dicendo che la Valtarese soccombe a Viadana 2 a 1, Gattati Cobardi 1 a 1, Solignano 2 a 0 al Mar Solara, che così viene bloccato. Fornovo, Basilica 2000, 0 a 1, l'amico Ghilani soccombe. Vediamo velocissimamente questa classifica. Voglio farmi intervenire in questa fase solo l'amico Piero, un attimo, a commentare questa classifica velocissimamente e poi dirò qualcosa io a livello di Valtarese. Ma diciamo che la Valtarese ieri dopo tante giornate ha potuto schierare quasi la formazione base e quindi si è anche visto che ha giocato alla pari del Viadana prendendo il gol della sconfitta a due minuti della fine. Mancava solo Esele, se no gli altri c'erano tutti e quindi io penso che la Valtarese al completo possa tranquillamente, dico tranquillamente, raggiungere la salvezza. Diciamo che è stato ufficializzato il nuovo allenatore della Valtarese che è Riccardo Sipone, giusto? Sì, Sipone è stato ufficializzato venerdì e quindi domani sera comincerà ad allenare la Valtarese. In precedenza ha allenato Bedonia, Lesignano, Bardi e Fornovo naturalmente, giusto? Certo. Ecco, bene, allora adesso voglio invece andare un attimino più su per quanto riguarda la graduatoria e dire che una bella notizia c'è e come per la nostra vallata perché Martini Show è intitolato l'articolo. Perché? Perché il Fidenza ha messo a capo il Brescello con due gol proprio di Martini che tra l'altro voglio dire che sarà qui in studio prossimo lunedì. Prossimo lunedì sarà in studio qui a RTA, per cui un bello scoop e questo ringrazio Stefano Berni. Altre cose importanti, dopo il cambio dell'allenatore, va detto della Valtarese, va detto che il Solignano fa un grosso colpo, 2-0 e blocca il Marzolare. Il Bardi comunque fa un ottimo punto, vero? Sì, va pareggiato 1-1, c'è un buon risultato. E il Fornovo, ahimè, incappa in una sconfitta anche se di distretta misura, ma la bravura di Ghilani penso che rivitalizzi quanto prima il Fornovo e lo riporterà in alto. Allora, tanto per accelerare questa nostra trasmissione che poi veramente diventerà molto calda, io direi di passare la palla alla regia e poi ne parliamo, torniamo al calcio, al basket e quant'altro. Con tini petroli, gotria di albaretto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni, un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi. Carni nostrane, certificate carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere centro edile dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, palets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro edile a Borgo Valditaro, via Pieve 4 bis. Bottega del pane di Binacchi, Sandra e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla bottega del pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Cattolica Assicurazione di Chiodi Lidia, una polizza a 360 gradi, come salvaguardare ogni evenienza. Consulenza gratuita, preventivi gratis, naturalmente l'assicuratore dalla tua parte. La tranquillità a portata di mano con una polizza Cattolica Assicurazione, Viale Bottego a Borgo Valditaro. Centro Polivalente Atlantite a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantite a Bedogna. Impresa Edile Nuziatine Fili di Borgo Valditaro opera da 30 anni nel campo della ristrutturazione e delle nuove costruzioni. Questa sera propone in vendita dei bellissimi appartamenti in classe energetica B. Regolarmente certificati, uno o due stanze da letto, bagno, soggiorno, cucina e balcone. La palazzina appena costruita si trova in Borgo Valditaro e per informazioni numero ufficio 0525 99 541. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgo Valditaro in via Primo Maggio con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale. 35 dipendenti. Combeck, costruzione meccanica di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. ZM Infissi, installazione di porte e finestre con il massimo della professionalità e risparmio. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral fanno il numero uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali sino al 65%. ZM Infissi la trovi con la sua produzione in via Pieve a Borgotaro e a Bardi in via Roma 15. Telefono 0525 966 27 oppure 338 9676 980. Un grande risparmio. ZM Infissi. Sabato 5 dicembre dalle ore 18. Grande festa per tutti i valtaresi. Siete tutti invitati alla grande inaugurazione del bar-cafetteria stile di vino. Paninoteca, wine bar, musica e sorprese. Stile di vino, piazza Farnese 4 a Borgo Val di Taro. Borgo Video di Cacchioli Paolo, via Nervese 15 a Borgotaro. Problemi col vostro PC? Non ce ne sono di problemi. Borgo Video. Vendita, assistenza, personal computer? Borgo Video. Vendita e noleggi DVD, giochi? Naturalmente Borgo Video. Borgo Video di Cacchioli Paolo, l'amico del tuo computer. Telefono 0525 916200. Cellulare 389-19-79202. Borgo Hotel, il negozio amico della telefonia. Wind Team Vodafone. Nel mese di dicembre grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind. Puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Una grande novità. Inoltre Borgo Hotel ha il sistema per trasferire e salvare i dati sul tuo smartphone o tablet. Veramente interessantissimo. Per saperne di più, viene a trovarci a Borgo Hotel, via Nazionale 2 a Borgo Val di Taro. E buone feste. E potete fare anche degli splendidi regali natalizi proprio a Borgo Hotel, perché c'è un reparto molto, molto stuzzicante. Dunque Borgo Hotel, via Nazionale 2 a Borgo Val di Taro. Adesso, cari amici, una notizia prima di andare avanti con le interviste. del calcio femminile, perché porta alto la Valtaro in questo caso, perché è primo in classifica. È tornato solo, primo in classifica, sette partite e sette vittorie. Ha vinto a Monticelli con 7 a 3 fuori casa, per cui Monticelli contro Centroedile Valtaro, perché porta il nome del Centroedile Valtaro. È la migliore della gara della stagione. Mi dicono, sullo 0 a 0, grandissime parate di Giulia del Nevo, veramente eccezionali. E poi, durante la gara, in splendida forma, è apparsa Giulia Gasparini. Per cui, con questo risultato, il Centroedile Valtaro, le nostre ragazze, raggiungono il primo posto, proprio perché il Toscanini ha pareggiato a Fontanellato 4 a 4. Per cui, di questo, almeno, ce ne vantiamo. Va bene? Era giusto dirlo quasi all'inizio. Allora, cominciamo a parlare di calcio. Per cui, una domanda proprio al volo, perché poi andremo a parlare di basket con il nostro ospite, che poi ci deve lasciare. In generale, quando voi avete fatto la vostra rosa, parlo del compiano, pensavate di poter tranquillamente affrontare il campionato? In corso ci doveva essere qualche ritocco? Beh, no. Sapevamo che, sappiamo che, diciamo così, il campionato è difficile per noi, perché da neopromossa è un po' più difficile. Però, effettivamente, personalmente, pensavo di avere qualche punto in più, ma soprattutto non pensavo di avere così tanti infortuni come abbiamo avuto nel mese di ottobre. però siamo fiduciosi. Bene, allora saltiamo il basket per il momento, perché poi andiamo a spromba tutto sul basket. Bedonia, in questo caso, ha tirato le prime somme? Sì, diciamo che domenica abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo giocato con una prima in classifica, abbiamo preso un buon pareggio, penso che è un risultato molto giusto. Niente di particolare, dico bravi ai ragazzi che hanno tenuto fino alla fine, in cui potevamo vincere anche la partita. Continuiamo con Bedonia, poi parleremo a fondo della terza categoria, ma adesso è proprio un inizio così. Beh, dopo l'anno scorso, penso che quest'anno, la Bedoniese abbia già fatto un passo avanti. Domenica abbiamo pareggio con la prima in classifica e se guardiamo a tutto abbiamo otto infortunati. Praticamente giochiamo sempre con i soliti giocatori, ma penso che più di così, penso che quest'anno non si poteva fare. Speriamo di continuare così e di fare un buon ritorno e poi vedremo l'anno prossimo. Da Bedonia a Borgotaro, naturalmente la capitale del calcio valtarese, anche se un pochettino in declino, ma in questo caso con il Borgotaro no. Anche per voi le somme le tirate. So che con l'amico Piero oggi abbiamo parlato e ho detto che sapevo che questo era il mese che era un po' così. Direi che domenica abbiamo fatto una buona partita con una squadra forte che è il Felegara e diciamo che secondo me dobbiamo essere un po' più cattivi sotto porta perché poi alla fine domenica abbiamo sbagliato anche due gol e nel primo tempo soprattutto, il secondo siamo stati un po' meno incisivi e niente, abbiamo fatto una buona partita grazie al gol di Nicolai su punizione a Ruggeri siamo riusciti a portare a casa un punticino. Piero, dici che nel finale dell'anno voi arrancate un po'. Sì, questo si sta ripetendo da 4-5 anni, il mese di novembre per noi è un mese maledetto, diciamo così. È finito. È finito, fortunatamente è finito, adesso abbiamo ancora l'ultima partita che però è in dicembre e speriamo di portare a casa questi importantissimi tre punti che comunque ci permetterebbero di girare a 27 che sono tanti tanti punti non abbiamo mai fatto a 27 punti nel giorno d'andata. Bene, adesso andiamo un po' col basket che verrà interrotto solo dalla pubblicità così ci telefoniamo spesso con l'amico del Nevo perché lui mi documenta è molto così, ci tiene molto a questo sport compie anche gli anni oggi? Ah sì? Nicola del Nevo o Mirko? Nicola del Nevo. Compie 39 anni. Non dirlo, ma non ti compie gli anni e basta. Ah, basta, ma è mica una donna. Vabbè, lo sai. Vediamo che paghi da te. Allora auguri, ecco perché non è vero, ho detto vengo io, poi dopo mi rimando un... Doveva portare qualcosa da mangiare. Ecco, è per quello, è un po' tirato, un po' la genovese. Non avete detto voi. Ciao Nicola, auguri, buon divertimento, divertiti. Anche perché 39 non tornano più. Allora, risultati, direi abbastanza positivi, nel femminile positivi al 100%. Devo dire che noi siamo sempre, per quanto riguarda la nostra realtà, un po' sui generis perché costituiamo con dell'analogia col calcio, tipo la terza categoria nel basket, quanto riguarda la prima divisione. Devo dire che invece nella categoria superiore c'è qui presente Giraudo che è in promozione, devo dire che loro si stanno comportando molto bene, data anche la giovane età, la poca esperienza. Devo dire che per la Valterese, soprattutto maschile, il futuro penso che possa essere roseo. Per quanto riguarda invece la nostra squadra, il futuro, devo dire che è sempre un'incognita annuale perché costituiamo, penso, una realtà molto particolare in tutta età. Pensate che l'età media, a parte gli ultimi due innesti quest'anno, che hanno un po' dato, diciamo, uno scorso dal punto di vista anagrafico, l'età media di 43 anni. Sì, infatti è una caratteristica che ci contraddistingue, penso, a livello nazionale. Infatti nelle file della nostra formazione possiamo annovarare Giordano Picelli, che penso sia da tutti molto conosciuto, penso, insomma, veramente ha costruito la storia della Valterese, unitamente a Michele Bozzi e anche a Maurizio Del Maestro. Continuano a giocare con la stessa vola, con la stessa intensità che probabilmente alcuni ragazzi d'oggi non si riscontra. Posso chiedere, quando si arriva a quell'età lì, è vero che il basket forse si fa meno chilometri del calcio, però dovrebbe essere l'esperienza proprio, è la mano calda che ti mantiene. Se vogliamo, per citare sempre i tre soggetti che ho già citato, quindi l'esperienza, devo dire che la mano calda e la giusta posizione tenuta in campo, devo dire che viene ancora riconosciuta da avversari molto molto più giovani, che come minimo hanno dei 20-25 anni in meno. Mi lascia veramente di stuggo, io questa cosa non la sapevo, sicuramente chi va a fare... La passione l'ha fatta padrone. Ecco, l'ultima vittoria vostra? Noi abbiamo giocato due partite, è iniziato il campionato, una vittoria, una sconfitta, una vittoria in casa dove il campo di Borgotaro, il campionato è sempre stato ostico per tutti gli avversari. Penso che negli ultimi 12 anni, che da quando è iniziato questa realtà, sia stato violato due volte. Ecco, come diceva Piero, è bello anche fare quasi un album di questi record che Borgotaro ha in tante occasioni. E magari se ne parla poco. Ecco, la caratteristica numero uno della tua squadra qual è? Beh, senz'altro la passione per questo sport, che noi condividiamo da tanti anni, naturalmente condita da una buona amicizia, ma penso che la passione... Vi dico che non è facile, perché giochiamo solo infrastimanalmente, in questi anni poi abbiamo cambiato sempre i gironi, a tornare i casi... A proposito di i gironi... I casi, tipo, non so, a Castello e San Giovanni al mercoledì sera, giocare alle 10 di sera, nonché nel Modenese, nonché nel Reggiano. È un impegno perché tutti abbiamo famiglia e tutti lavoriamo via. Per fortuna abbiamo qualche ragazzo che lavora a Bologna, qualcuno a Reggio Emilia, che in trasferta, diciamo, la formazione cambia perché... Sfruttiamo questi ragazzi già presenti in queste terre, tra virgolette, lontane, per rendere meno disagevole chi parte da qua. E con il vostro girone chi è sicuramente il favorito? Beh, come al solito siamo sempre noi. Ah, voi. Sto scherzando, però... Devo dire, per chi, proprio per la storia dei componenti, soprattutto gli storici dei Valtarese, di solito venire a vincere, o comunque battere la Valtarese, devo dire che è sempre uno scalpo gradito a tutti. So che mi hanno detto, mi hanno informato che Ugo Vietti sta scrivendo un libro. Guardi, ammetto, tra virgolette, ignoranza, non lo sapevo. No, me l'ha detto Paolo, tra l'altro, il cultore di calcio, Paolo Brugnoli, Paolino. Ma anche Ugo sta scrivendo... Ricordi ne ha, insomma, è sempre anche lui un dei pilastri dall'altarese di Palacanestro. Ecco, anche per voi sicuramente si fa sentire la crisi dello sponsor, di questo, di quant'altro. Noi, pure, sì, per il discorso della passione... Ma c'è un costo comunque la vostra? Sì, beh, per esempio, come un campeonato di prima divisione può costare, a parte l'iscrizione, tesseramento, tasse gara, tranquillamente dai 4 ai 5 mila euro. Autotassati. Tutto autofianzamento. Questo è la bellezza dello sport. Ecco, c'è una cosa che vorresti, che ti fosse chiesto in altre divisioni come questa, o comunque anche da, ti incontri al bar con qualcuno, la domanda che vorresti, e nessuno di noi t'ha mai fatto. Ma io più che una domanda... Ho la curiosità. Più che curiosità vorrei lasciare solo un ricordo, che ha giocato solo con noi un anno, Claudio Dall'Arano. Insomma, Ghiro che purtroppo scompasso prematuramente. Che noi ricordiamo sempre, prima inizio delle gare, insomma, urlando il suo nome come... Che è estremamente nobile. È una parte di lui che comunque è sempre presente con noi. Insomma, ho piacere di ricordarlo, perché è sempre stato un esempio anche nel giocare a Balacanestro. Ecco, perciò, diciamo, una curiosità mia in questo caso, i vecchi loro verranno poi con voi. Ma a volte capita il contrario, c'è qualche giovane che per motivi di lavoro o perché non trova spazio, viene con noi, almeno un anno si ferma e poi a volte torna da loro. Facciamo un po' da chioccia per i giovani. La presenza del pubblico com'è? Beh, insomma, visto che giochiamo sempre infastivamente, degli orari un po' strani. Però siete tutti conosciuti, molto conosciuti. Sì, abbastanza conosciuti. Giordano, credo che lo conoscono in provincia, direi... È in provincia fuori Piovizia, molto conosciuto, ecco. Per cui siete soddisfatti anche del pubblico, del calore del pubblico? Sì, riguardisco la passione, sì. Poi insomma, siamo su Facebook, queste cose cerchiamo di chiamare un po' l'attenzione delle persone per poi essere presente alle partite, però insomma non è facile, ecco. Prossima partita? In casa con San Secondo lunedì sera 7 dicembre alle 21. Sì, approfitto per evitare... Ah, approfittiamo veramente, poi pure lo sport così è più professionale. Allora, vi aspettiamo tutti 7 dicembre alle 21 al palazzetto Bruno Raschi per Valterese 2000 San Secondo. Posso dire una cosa? Anche due. Perché a volte citare, insomma, i meno giovani atleti, direi che ringraziamo naturalmente la Valterese, Mirko Del Neve, il Presidente, che ci permette di partecipare a questi campionati sotto appunto la società Valterese 2000. Però voglio ricordare anche dei giovani, i giovanissimi, perché è importante anche il settore mini basket, sia Borgotaro, ma soprattutto anche Bedonia, dove sono tra virgolette coinvolto, dove dalle annate del 2006-2010 c'è qualche bambino interessato, naturalmente il calcio che è importante, ma condividono un altro sport, che appunto è la palacanestro, il martedì e il giovedì alle 4, il giovedì alle 4 e mezza del martedì, appunto, delle annate del 2006-2010, chi volesse appunto... Ecco, dove ci possono trovare? Alla palestra di Bedonia, allenatrice Elisa Beccarelli, con Marco Bertani e la Mariana Baldi. Bene, ci diamo la palla alla regia, poi un'ultima domanda, prima di andare via, un'ultima domanda. Ho parlato troppo. No, no, va bene. Gioelleria Romano, la giovedì Romano in Bedonia via Garibaldi è sinonimo di qualità, esperienza e competenza, e invita tutta la clientela a visionare la vasta gamma di articoli, concessionario orologi di Philip Watch, Braille, Gas, Festina, Citizen, Seiko. La giovedì Romano vi propone i preziosi ed esclusivi gioielli firmati BBG, in occasioni uniche e speciali. Inoltre trovate ampia scelta di prodotti fashion, fra i quali i famosi bracciali in argento, componibili, firmati Fiamon, con il primo ciondolo in omaggio, e gioielli Brossway, Strolli, Gas, Braille e Ottaviani, naturalmente gioielleria Romana. L'uomo e la donna sportiva vestono Moretti Sport. A Bedonia, tutte le marche più prestigiosi al mondo li trovi da Moretti Sport. La tua esigenza sportiva è anche un'esigenza di vestire elegante nello sport. Moretti Sport. Supermercato Metà, Via Europa 1, Bedonia. Titolare Marco Mariani, uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno. Io l'ho fatto. Autoscuola Borgotarese di Menei Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Menei Stefano e Federica in Via Montegrappa a Borgo Val di Taro. Caseificio Borgotaro, il vero sapore di montagna. Una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole. Il parmigiano reggiano. E allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro, località Ponte Scodellino di Albaretto, telefono 0525 96284. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro, la trovi in Via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro, telefono 0525 97447. Faccelleria Equina di Brugnoli Paolo, a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne soprafina. La meta allora è, macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. ZM Infissi, porte e finestre con il massimo della professionalità e risparmia naturalmente. ZM Infissi e Zucconi Massimo con Fistral fanno il numero uno del settore. ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali del 65%. ZM Infissi lo trovi con la sua produzione in Via Pieve a Borgotaro. A Bardi come showroom, in Via Roma al numero 15, telefono 0525 96627, 338 9676980. Un grande risparmio è ZM Infissi. Sabato 5 dicembre dalle ore 18, grande festa per tutti i valtaresi. Siete tutti invitati all'inaugurazione del bar-cafetteria Stile di Vino, Paninoteco, wine bar, con musiche e sorprese. Stile di Vino, Piazza Farnese 4, a Borgo Val di Taro. Si avvicinano le feste. E allora congediamo il primo dei nostri amici che deve andare per motivi di impegni pressanti, di lavoro e di sport, naturalmente. Vabbè, lo sport è anche un lavoro fatto bene. Allora ti chiedo, da quanti anni è che militate, fatti questi campionati? In queste categorie sono 12 anni. Abbiamo vinto tre volte il campionato, una volta senza nessuna sconfitta. Gli ultimi quattro anni mi ha fatto la finale, ahimè persa. Però, devo dire che il bilancio è più che positivo. Siccome è anche uno dei miei cari amici, Giordano, com'è in campo? Perché fuori lo vedi mite, lo vedi pacato. Noi lo chiamiamo, scherzando, però devo dire che anche la verità lo chiamiamo Fosforo Picelli perché devo dire che il campo mette testa a giocare. Per il forse discorso è che si corre di meno, però l'intelligenza cestistica è sempre presente, ben lucida. Bene, allora tra poco ti congediamo. Diciamo ancora una volta molto importante quello che è accaduto nel mondo femminile, cioè nel calcio, questo essere tornati in vetta, anzi sono sempre stati in vetta, bisogna dire, le ragazze della Bedonia femminile, per dire sinceramente centro edile Valtaro, per cui portano il nome di uno sponsor a noi molto caro. Visto che parliamo di ragazze, voglio anche dire che il Borgo Walley ha battuto a Monticelli, il Monticelli 3 a 0. E allora adesso mi mandi la classifica, caro Gian, mentre concediamo il nostro ospite della seconda categoria, perché incominciamo i commenti piuttosto importanti e poi ci saranno anche filmati. Importante come vedete, importante come vedete già la classifica, eccola qua, vediamo Real Baganza 30 punti, il Borgotaro a 24, secondo, perciò ha ripreso la seconda postazione, che è quanto mai importante, ma i risultati sono questi, Borgotaro, Fedegaro 1 a 1, Compiano, Ghiare, Parma 1 a 4, Vico Fertile, Valgotria 2 a 0, Calestanese, Real Baganza 0 a 1 e un punteggio che ho voluto sottolineare, Lemignano, Sivizzano 4 a 4, 8 gol, una cosa proprio tennistica è il caso di dire. Allora, commentiamo questa classifica, lo facciamo commentare prima a te e poi a tutti voi, a te invece parleremo di basket, con te parleremo di basket. Allora, direttamente dagli amici del Compiano incominciamo al commento a questo campionato che vi vede coinvolti Borgotaro, Compiano e naturalmente Valgotra, per cui ben tre squadre in questa seconda categoria. Carlo Mariani, a te il primo commento. Per noi è un campionato difficile, come dice la classifica, abbiamo ancora una partita, speriamo di avere qualche punto in più e di fare un buon girono di ritorno. Con tre punti finireste questo girone a 11 punti, insomma vi avvicinereste a chi sta non bene come voi, in poche parole. Sì, per noi ogni partita diventa importante ormai, quindi dobbiamo essere sempre concentrati e determinati su questo punto di vista. Io sono, ripeto, molto ottimista e non lo dico così per dovere, ma lo dico perché ne sono veramente convinto. Bene, dal calcio al basket, velocità anche per tenere la risposta, perché poi parleremo in diverse circostanze con te che rappresenti il basket valtarese. Ecco la vostra squadra, domenica, com'è andata? Noi abbiamo giocato venerdì sera in trasferta, Fidenza, veniamo da una sconfitta, una brutta sconfitta. Adesso speriamo di riprenderci domenica, giochiamo alle 6 in casa contro l'ultima in classifica, non da sottovalutare assolutamente. Speriamo lì di tirar fuori il meglio di noi che abbiamo e dovremo dare in campo tutti i weekend o quando giochiamo. Torniamo al calcio tra Bedonia che commenta una serie su rispetto a voi, che naturalmente siete in terza categoria. Ecco, come vedete i vostri compagni di avventura non diretta, perché loro sono in seconda categoria. A parte il Borgotano, chi è messo meglio? Valgotra o Compiano? A parte i due o tre punti che... Logicamente è messo il Valgotra, però io come ex giocatore del Compiano dico che secondo me, adesso vedendo la classifica che ha 8 punti, ma penso che farà dei risultati molto positivi e si cercherà sicuramente la salvezza, ecco. Sentiamo il dirigente invece, il saggio del Bedonia, come la pensa? Beh, Borgotaro è grandissimo, io le auguro di fare salto di qualità, di riuscire ad andare su. La Valgotra, ci sarebbe qui da parlare un'ora, sta Valgotra e Compiano. Io ho tutte le mie idee strane. Ma poi te le faccio dire, perché la polemica è il succo di una visione. No, non è una polemica, sono cose che si dovrebbero... Ho già sentito qui in trasmissione, qualcuno ne ha parlato. Chi non ha squadri giovanili finisce, finisce il calcio in queste zone. Poi non voglio dire altro, per non prolungarmi lascio la parola a questi ragazzi. Comunque, io mi auguro che queste due squadre, sia Valgotra che Compiano, riescono a rimanere in seconda categoria, perché io vivo nella Valtaro e ci tengo a queste cose. Però senza giovani non c'è futuro. Finiscono i soldi, finisce il calcio, finisce tutto. D'accordissimo. Allora, per voi è molto facile commentare questo girone, perché voi siete là in cima. Per un momento siete stati anche primi, giusto? Sì, diciamo che stiamo facendo un buon campionato e secondo me la nostra forza è il nostro gruppo. Abbiamo un grande gruppo, compresi tutti i dirigenti che ci aiutano. Ecco la vostra immagine. Io devo ringraziare tutti i ragazzi che giocano con me. Sono tutti degli ottimi giocatori, soprattutto sia dentro che fuori dal campo. E' chiaro che la posizione di classifica è un'ottima posizione, anche se io sono un po' incontentabile, dico che abbiamo perso troppi punti per strada. Ecco, i punti che ti rodono veramente. Perché diciamolo, buttiamo fuori tutto. A parte quelle esternazioni proprio mitigate, forse anche da te, quella sera che c'era il vostro allenatore, che saluto, Alberto, che è un grandissimo allenatore, che è soprattutto una grande persona. Perché nel calcio ci vogliono anche persone davvero, così che mettono in campo, anche la loro serietà di uomini. Beh, ti riferisci a partire col Calestano. Abbiamo giocato veramente male, però il Calestano è un'ottima squadra. Poi, secondo me, abbiamo perso col Fraore. E l'unica partita che non ho vista è quella col Compiano, perché ero a Napoli. E credo che, vista la classifica, l'avremmo dovuta vincere. Non me ne voglia l'amico Mariani, ma... Sono contento che hanno un punto in più, però me ne mancano due a me. E quindi, insomma, non è stata una gran prestazione da quando mi è stato detto. Però ci sta, nel calcio qualche punto si perde. Spero che davanti, Real Sala e il Calestano che ci affianca, perdano qualche punto anche loro. Un grazie a chi lo vuoi dire questa settimana, perché qualcosa di rallentamento c'è stato. E grazie in che senso? A qualche vostra squadra che vi è davanti. E beh, grazie a Sivizzano che ieri è riuscito a pareggiare con Lemignano, e che se no Lemignano sarebbe venuto da noi. E quindi, sai, poi c'è in gioco i play-off, quindi noi dobbiamo tenere distanti le terze, le quarte e la quinta. E quindi, quando perdono dei punti, ecco, ad esempio, l'Emignano due punti li ha persieri. Però va bene, è andata così e può succedere a tutti. Sei sempre dell'idea che è Real Sala? Sì, perché il Real Sala è stata costruita per stravincere il campionato. Ha un presidente che ha una grossa disponibilità, investe molto. I giocatori che compongono il Real Val Baganza sono tutti provenienti dalla promozione e dalla prima categoria. Ha una rosa nutrita, tutti di buon livello. Noi la vincevamo 2-0, poi abbiamo fatto qualche ingenuità e alla fine abbiamo fatto 2-2. L'abbiamo giocata alla pari, però sai, in un campionato la squadra più forte viene fuori alla lunga e può darsi che Real Sala sia più forte di noi. Anzi, per adesso lo sta dimostrando. Sì, però i punti sono lì. Sì. Va bene, abbiamo visto anche queste immagini. Vuoi commentare qui? Lì abbiamo sbagliato tante occasioni da gol. Poi abbiamo segnato con una gran punizione di Ruggeri che adesso è diventato un micidiale sulle punizioni. Ieri, tra l'altro, era un po' fuori dall'area e che lui di solito è micidiale dal limite dell'area. Ha tirato una punizione spettacolare per me. Ha imparato invecchiando perché prima non le tirava mai, però adesso è veramente il cecchino su punizione della Borgotà. Poi abbiamo preso un gol in sospetto fuorigioco, però ad onor del vero devo dire che poi loro avevano anche segnato un altro gol che è stato annullato per fuorigioco. Dubbio. Io sono molto onesto. Dubbio. Dalla panchina per me era dubbio. Ecco, ieri cosa vi è mancato per la vittoria? Eh beh, c'è mancata, come diceva Michelangelo, la cattiveria sotto rete. Il mio amico Bongi ha sbagliato due gol che mi ha chiesto scusa appena sono entrato nello spogliatoio alla fine del primo tempo e quindi vuol dire che era... Uno è clamoroso, adesso non so se l'hanno fatto vedere quando scivola che non prende la palla, è scoordinato. Questo è il gol annullato, no? Questo è il gol annullato, sì, alla fine. E quindi poi anche nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione con Ruggeri e Emanuele. non l'abbiamo concretizzato perché le occasioni le abbiamo avute, però alla fine il pareggio è giusto e devo dire che il pareggio è giusto. Ecco, tu mi hai detto oggi, quando ci siamo visti prima di venire in trasmissione, il Ferregar è una buona squadra. Sì, mi ha fatto un'ottima impressione, soprattutto nel secondo tempo. Nel secondo tempo sono venuti fuori, noi siamo calati, loro sono venuti fuori, sono molto forti fisicamente, è messa bene in campo, ha due o tre individualità veramente di livello alto. A me ha fatto una buona impressione, credo che rimarrà attaccato alle prime fino alla fine, se continua così. Mi diceva il mister che loro hanno perso in casa col Valgotra, almeno si lamentava di questo, perché purtroppo era anche incavolato, perché erano 5 o 6 giocatori che erano andati in Brasile a fare una vacanza. E quindi rimugina su quei tre punti lì lui. Ne parleremo anche di questo, sono tutte le notizie interessanti per rendere scintillante un po' il programma. Intanto un po' di consigli che non guastano. Continui patroli, gotria di Albaretto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni, un pienone di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro, qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana, il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Macelleria Savani Flavio di Germano, la qualità più alta delle carni macellate in loco, le nostre carni sulle tavole di tutti noi, carni nostrane, certificate carni italiane. Macelleria Savani Flavio di Germano. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere il centro edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, palets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro edile a Borgotaro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandra e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane, con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità, naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Cattolica assicurazione di Chiodi Lidia, una polizza a 360 gradi, come salvaguardare ogni evenienza. Consulenza gratuita, preventivi gratis, naturalmente l'assicuratore dalla tua parte. La tranquillità a portata di mano con una polizza Cattolica assicurazione. Viale Bottego a Borgo Valditaro. Centro polivalente Atlantide a Bedogna, in largo colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno. Camping per il vostro relax in un ambiente unico. Tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Impresa Edile Nunziatine Fili di Borgo Valditaro opera da 30 anni nel campo della ristrutturazione e delle nuove costruzioni. Questa sera propone in vendita dei bellissimi appartamenti in classe energetica B, regolarmente certificati, uno o due stanze da letto, bagno, soggiorno, cucina e balcone. La palazzina appena costruita si trova in Borgotano e per informazioni numero ufficio 0525 99 541. Combeck, costruzioni meccaniche da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio con telefono 0525 97 318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotelli, negozio amico della telefonia. Wind Team Vodafone, il mese di dicembre ha grandi occasioni per voi. Nuova opzione telefono incluso, Wind. Puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre, Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante. Per saperne di più, vieni a trovarci a Borgotel, in via Nazionale 2, a Borgo Valditaro. E buone feste! Si attende con ansia naturalmente l'inaugurazione del bar con la nuova gestione che si effettuerà il giorno 5 dicembre dalle ore 18 e siete tutti invitati. Stile di vino, bar, paninoteca, wine bar con musiche sorprese. Stile di vino, Piazza Farnese 4 vi aspetta da sabato 5 dicembre dalle ore 18. E si torna alla seconda categoria. Torniamo al compiano. Il compiano, ecco, a voi dove è mancata magari un po' di fortuna, un po' di astuzia, un po' di esperienza? Dove sono stati i punti buttati via durante questo inizio di campionato? Ma, non so... Buttati via o buttati via i punti? Per sfortuna, per mancanza di uomini? Ma, sicuramente le partite contro il Fraore e contro la Folgora in casa, due partite in casa con loro, ecco, quelle sono state affrontate con un po' di difficoltà per via degli infortuni. Non vuole essere una giustificazione alla nostra classifica, però comunque hanno avuto sicuramente un loro peso, ecco. Ecco, adesso vi attende naturalmente l'ultima partita, penso di cui prima della sosta, una partita che per voi diventa importante, molto importante. Beh, sì, giochiamo a Vico Fertile e sicuramente dobbiamo vincerla per forza, insomma. Ecco, un'altra cosa, quanto incide nel vostro campionato la rosa, magari un po' limitata, gli infortuni che ci sono. Uvedi Solignano è frastornato da, lui è in prima categoria, di infortuni, per cui a Setti è mancata mezza squadra, avrebbe avuto molti più punti sicuramente. Ecco, nella vostra realtà quanti incidono questi infortuni? Beh, la rosa non è limitata la nostra, siamo a 24-25, quindi non è limitata. però è chiaro che nel mese di ottobre abbiamo avuto 6-7 infortuni, un po' per infortuni, un po' per malattia e ci hanno sicuramente penalizzato, specialmente nella difesa, ecco, più che altro. Però questo sicuramente ha avuto una sua importanza. Ripeto, non è una giustificazione, non deve essere un alibi per noi, però è giusto dirlo, insomma, ecco. Per quanto riguarda, invece, rispondo all'amico Brindani, per quanto riguarda la partita con il Borgotaro, è un derby e come sai i derby sono sempre imprevedibili, però è stata, secondo me, è stata una bella partita. Io, personalmente, ho sofferto ma mi sono anche divertito perché due a due è stata veramente combattuta fino alla fine da ambo le parti anche in modo corretto. Ecco, forse l'unico che non si è comportato bene sia da una parte che dall'altra è stato probabilmente l'arbitro che non era all'altezza del... ha fatto errori sia per voi che per noi. Però sicuramente lui non ha onorato secondo me una bella partita. Poi, chiaro, a me sarebbe piaciuto vincere, però... A Britannia, neanche a Napoli sarebbe piaciuto vincere. Però sono contento che Borgotaro sia comunque una lotta per comunque vincere qualcosa di importante. Grazie. Allora, andiamo col basket. Ecco, come si avvicina un ragazzo? Cioè, quando si va a scuola giovani, non so, dieci anni si sceglie lo sport probabilmente giù di lì. Ecco, tu come l'hai scelto il basket? Ma io l'ho scelto, avevo iniziato a giocare a calcio. Ah, vedi che ci ho azzeccato un po', eh? Tempi degli elementari, però ho fatto tre allenamenti, poi ho capito che non era il mio sport. Cos'è che non ti avvicinava al calcio? Ma a quell'età lì ancora bene, non hai le idee chiare di cosa ti posso, non posso avvicinare, secondo me. Ho capito che, diciamo, non c'era la passione che invece avevo e ho per il basket, magari anche nel guardare le partite, l'NBA, tutti i ragazzini che seguono e cercano sempre di medesimarsi in quella pallacanestro lì, che, detto da tanti allenatori, giustamente non è la cosa giusta, perché lì è tutto basket champagne, si dice, no? Tutte americanate, invece bisognerebbe appunto concentrarsi su cose più concrete, più facili da eseguire. comunque sono, diciamo, campionati di un certo livello che ti portano a, diciamo, immedesimarti appunto in questi giocatori e ti aiutano a indirizzarti verso uno sport che poi tu puoi provare o non provare e da lì capisci se è il tuo sport. Esatto. Cosa, così, la qualità del tuo allenatore migliore, che tu giudichi migliore? Diciamo, essendo un ragazzo giovane, quello di, diciamo, confrontarsi nella maniera più corretta con noi, proprio anche lui avendo giocato anche insieme a me avendo sempre giocato a pallacanestro ora ci allena e sa quali sono i punti dove toccare meglio e sa farlo, diciamo. Bene. Torniamo allo sport che naturalmente ha la maggior parte del tifo, anche in questa trasmissione è inutile negarlo, per voi del Bedogna naturalmente poi torneremo a questo campionato che vi vede protagonisti terze categorie ne parleremo tutti ma vi vede direi dopo un inizio così e così un grande ripresa giusto? Sì, grande ripresa sì, diciamo che abbiamo avuto parecchi problemi di giocatori infortunati e diciamo che abbiamo qualche punto l'abbiamo anche regalato e potremmo aver avuto 4-5 punti in più in classifica ma abbiamo fatto degli errori questo è normale fa parte anche del calcio fare gli errori si pagano si pagano è normale e niente il problema nostro del Bedogna è che siamo partiti con troppi infortuni dall'inizio del campionato e ancora tuttora siamo in ballo di ricoperarci parecchi di noi giocatori ecco bene andiamo con un dirigente del Bedogna che naturalmente lui è abituato a fare i conteggi manco un punto qui un punto abbiamo perso là no io di questi conteggi non ne faccio io dico soltanto che i punti persi sono persi vuol dire che non ce li meritavamo non si può perché poi ci sono partite che puoi aver fatto bene poi partite che avevi fatto male avevi fatto i punti e viceversa non è quello che ha io dico soltanto che la Bedogna è partita l'anno scorso facendo un campionato diciamo ultimo in classifica rifondata rifondata e poca alla volta sta risalendo è una squadra nuova e quest'anno si vedono si vedono già i risultati perché se guardiamo bene dall'anno scorso a quest'anno gli inserimenti di giocatori ce ne sono stati due o tre il portiere altri due ragazzi e anche Totop che è sempre infortunato vabbè però diciamo che la rosa più o meno è quella dell'anno scorso poi sul fatto degli infortuni che ho detto prima non bisogna rimpiaggere chi è fuori bisogna dire che chi è andato in campo ha dato tutto e si sono visti anche i risultati la sola cosa che manca è quando sei in panchina che non hai non hai forse la rosa non è completa nel senso che non c'è i cambi che sono adeguati a quelli che stanno giocando ecco tutto lì non è che voglio dare del merito a quelli che sono in panchina ma ragazzi giovani che probabilmente non hanno ancora esperienza e nei cambi sei un po' sacrificato tutto qua però io penso che quest'anno e in un giro di due o tre anni penso che la bedonese la politica sta facendo le darà saliremo di categoria sicuramente andiamo al Borgotaro che diciamo si è sbarazzato in un certo qual modo del doppio impegno quello della Coppa è uscito così con un punteggio magari che non era del tutto voluto ma che comunque sicuramente adesso vi ha fatto risparmiare delle forze per il campionato o no? Beh sicuramente sì il mister ha dato spazio anche a chi gioca meno ovviamente e niente adesso dobbiamo fare un campionato un buon campionato dobbiamo continuare così e non so sì siamo usciti dalla Coppa però però insomma la vostra volontà è mettere tutte le vostre forze lì sul campionato sì sì vogliamo vincerlo questo campionato è bello quando un giocatore dice voglio vincerlo la prossima partita è molto importante il mister dice che sono tutti importanti giocheremo contro l'audace che non è da sottovalutare e speriamo di portare a casa i tre punti ecco Piero quanti sono importanti in seconda categoria in prima ma anche in terza la vicinanza degli sponsor cioè quello sponsor che dice sì io vi aiuto perché credo nelle nostre realtà nel calcio di casa e così via quanto sono importanti queste sinergie gli sponsor sono importanti perché contribuiscono a a pagare tutto quello che competa ad un campionato nel caso nostro di seconda categoria che come ben sa anche l'amico Mariani secondo me è abbastanza esoso come iscrizione assicurazione giocatori tecnici dirigenti e spese varie perché ogni tanto ne salta sempre qualcuna di nuova e gli sponsor sono fondamentali il problema è che adesso trovare degli sponsor è sempre più difficile e poi molte volte non capiscono che diciamo così quello che noi facciamo noi facciamo anche un po' del sociale secondo me e quindi andremo aiutati molto di più da chi ha la possibilità di farlo ma non viene sempre recepito questa cosa sì perché è sociale perché tu togli dalla strada portando nello sport tanti ragazzi che magari sono figli anche di alcuni industriali o comunque assolutamente sì artigiani piuttosto importanti cediamo la palla ancora alla regia ricordando che dopo di noi va in onda un programma stratosfericamente stellare Atlas le immagini più belle del pianeta curate in modo direi sicuramente inarrivabile dall'amico Jean-Louis che sicuramente di questo ne sa e come più tardi però gioielleria romano la gioielleria romano in Bedogno via Garibaldi è sinonimo di qualità esperienza e competenza e invita tutta la clientela a visionare la vasta gamma di articoli concessionario orologi di Philip Watch Braille Gas Festina Citizen Seiko la gioiella romano vi propone i preziosi ed esclusivi gioielli firmati BBG in occasioni uniche e speciali inoltre trovate ampia scelta di prodotti fashion fra i quali i famosi bracciali in argento componibili firmati Fiamman con il primo ciondolo in omaggio e gioielli Brossway Strolli Gas Braille e Ottaviani naturalmente gioielleria romana l'uomo e la donna sportiva vestono Moretti Sport a Bedogna tutte le marche più prestigiose al mondo li trovi da Moretti Sport la tua esigenza sportiva è anche un'esigenza di vestire elegante nello sport Moretti Sport Supermercato Metà Via Europa 1 Bedogna Titolare Marco Mariani uno dei fondatori del consorzio Love Tareceno Io l'ho fatto Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica patenti per tutte le categorie corsi CQC corsi di recupero punti di sbrigo pratiche auto passaggi di proprietà in sole 24 ore e allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in Via Montegrappa a Borgo Val di Taro Caseificio Borgotaro il vero sapore di montagna una cosa non deve mai mancare sulle nostre tavole il parmigiano reggiano e allora dove lo trovi? Caseificio Sociale Borgotaro località Ponte Scodellino di Albaretto telefono 0525 96284 Immobiliare Valtaro come investire bene i vostri risparmi la casa è il bene più importante per gli italiani Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro telefono 0525 97447 Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna la meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina carne sopraffina la meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo Piazza della Legna a Borgo Val di Taro Ritorniamo in onda dandovi questi consigli Borgo Video di Cacchioli Paolo via Nervesa 15 a Borgo Val di Taro problemi con il vostro pc non ce ne sono assolutamente di problemi Borgo Video vendita e assistenza personal computer Borgo Video vendita e noleggi DVD giochi Borgo Video Borgo Video di Cacchioli Paolo l'amico del tuo computer telefono 0525 91 6200 cellulare 3891979202 ZM Infissi installazione di porte e finestre con il massimo della professionalità e risparmio ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral fanno il numero uno del settore ZM Infissi vi ricorda gli incentivi fiscali che vanno sino al 65% ZM Infissi lo trovi con la sua produzione in via Pieve a Borgotaro e a Bardi lo showroom in via Roma 15 telefono 0525 96 627 338 96 76 980 un grande risparmio ZM Infissi ed eccoci con l'ultima parte in questo caso la terza categoria che vediamo un po' come si presenta vediamo già la classifica il Bedonia pareggia con il Sisse in casa 1 a 1 Felegara a terre alte finalmente il mio amico Giovanni Gasparini fa un risultato decisamente positivo 1 a 0 batte la Felegarese Palanzano Varanese Varanese pardon Varanese non c'entra niente non hanno giocato Galimberti ha un'altra partita da recuperare intanto mi hanno appena passato il risultato definitivo che poi sarà da verificare il Sassuolo ha pareggiato 1 a 1 con la Fiorentina adesso stanno giocando 1 a 1 finita? finita 1 a 1 benissimo 1 a 1 il Sassuolo ha un grande risultato per cui un altro punto in classifica di questa squadra che naturalmente sta ottenendo risultati che vanno forse oltre quello che erano le indicazioni iniziali complimenti a Sassuolo complimenti a chi della Valtaro Milita lì cioè Gazzola che anche se mi dicono non ha giocato in questa partita fa sempre comunque parte di questo straordinario equip che sta portando il Sassuolo nei primissimi posti della classifica ha pari punti col Mila se non sbaglio o comunque un punto sotto se non vado erato ha pareggiato con la Fiorentina non è poco bene allora adesso andiamo invece con la terza categoria abbiamo letto i risultati il Varano ha naturalmente una partita in meno e potrebbe in teoria avvicinarsi al Sissa visto che il Sissa gli ha fatto un piacere il Bedonia perché l'ha bloccato uno a uno parto da te come commentiamo questi risultati? credo che alla fine se la giocheranno Sissa e Varanese al momento mi sembrano quelle più più determinate quelle costruite per per giocarsi il campionato forse il Sissa ha qualcosina in più però la Varanese è una squadra molto coriacea e per quanto riguarda il Bedonia mi fa piacere che il Bedonia faccia un buon campionato e mi auguro di vederlo presto insieme a noi in seconda categoria sono un pochino deluso forse dal Bercetto che mi aspettavo forse qualche punto in più anche perché l'anno scorso mi pare avessero fatto un buon campionato quest'anno hanno puntato su tutti i ragazzi giovani e credo tutti di Bercetto o comunque vicino a Bercetto quanto mi risulta Giovanni mi abbia detto così bene andiamo velocemente col basket nella vostra girone chi temete di più? temiamo diciamo che siamo un girone di pari quasi pari livello sicuramente la favorita è Salso Maggiore che ha avuto diciamo dei buoni acquisti oltre oltre a quella c'è una gran favorita che era Castellana che siamo riusciti a battere domenica scorsa noi in casa quindi infatti ho letto gli abbiamo fermato diciamo questo cammino e un'altra è Fidenza che sta facendo diciamo buoni risultati pur diciamo non avendo le caratteristiche che hanno le altre squadre lei adesso è in vetta con l'altro giorno parlando con i tuoi colleghi mi è saltato fuori che il pubblico vi ha un po' glissato è vero? oppure sta mancando un po' il pubblico alle vostre partite? no diciamo che ultimamente si fa sentire invece in casa si rispetto a inizio campionato ma forse si riferivano all'inizio ci dà ultimamente ci dà gran supporto quindi più è ma anche a livello di numeri oppure solo di sostegno ecco no a livello di presenza sia a livello di presenza che diciamo a livello di tifo quindi noi abbiamo sempre tutto bene tutto bene allora Bedonia siete voi interessati un 1-1 un 1-1 che all'inizio avreste firmato vedendo la partita invece siete incavolati come beh incavolati alla fine si alla fine si poteva vincere la partita all'inizio ho guardato la partita io in tribuna diciamo che il SIS è una bella squadra si vede giocare ecco voi avete penso la settimana scorsa avete perso Varano 3-1 adesso li avete sott'occhio tutte e due quale è più forte dell'informazione? io ho visto la presidio dal risultato di Varano sì anche dal risultato di Varano ma secondo me vedo la Varanese la Varanese secondo me la vedo più forte del SIS il SIS è una bella squadra noi domenica primo tempo con loro abbiamo fatto delle belle parate il nostro portiere ma alla fine diciamo anche nel secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol abbiamo sbagliato e sull'1-1 potevamo chiudere la partita con due o tre azioni limpide da poter fare gol non l'abbiamo mica fatta e per noi ci è andato bene anche l'1-1 ecco nient'altro da dire che quest'anno vedo che c'è un bel gruppo un allenatore nuovo che vorrei fare anche complimenti perché è il primo anno che lui allena e penso che sta facendo abbastanza bene e per il resto in terza categoria diciamo che non ci sono questi gran fenomeni e con le squadre la puoi giocare con tutte ecco perché se fossero così tutti i fenomeni non sarebbero in terza categoria noi del Bedonia penso che quest'anno ce la possiamo giocare con tutte poi vada il risultato come vada però si va in campo con la convinzione di non aver paura di nessuno ecco sentiamo il dirigente al quale voglio fare la domanda ecco tu prima parlavi dei giovani quando non ci sono i giovani si finisce col calcio in diretta mi dice Gianluigi che l'Inter sta perdendo 1-0 con il Napoli se voi siete contro l'Inter potete anche gioire c'è qualcuno che dice ottimo risultato Goldi Higuain benissimo il Napoli è certamente una delle favorite c'è poco da dire abbiamo parlato senza giovani non si va da nessuna parte e poi mi hanno detto che voi avete un punto di forza nel vostro pubblico anche è vero? beh per quanto mi riguarda la Vedonese sta facendo sta facendo a parte del campionato a una società solida forte nel senso che c'ha 4 squadre giovanili in più questa terza sta puntando tanto sui giovani che è una cosa che diciamo nella nostra zona a parte il Borgotaro e la Valtarese credo che tanti giovani come abbiamo noi non ce li ha nessuno questa è una politica che dovrebbero fare tutte le squadre io con Piano non so se c'è da giovanili ma non credo il Borgotaro ci è andato qualche squadra della Valtarese mi sembra l'anno scorso una però cosa succede in queste squadre che finché ci sono stati i soldi di Sponso sono riusciti ad andare avanti finito i Sponso finiscono il Borgotaro è da anni che fa le giovanili e qui si vede i risultati la Valtarese negli anni passati quanto ne so io che poi magari potrei anche sbagliare mi potrei anche dire che sto sbagliando ha puntato sui giovani però cosa avendo avendo una squadra forte sembrava di essere forte perché avevi soldi compravi i giocatori i giovani li mandava in giro in giro cosa ha fatto finendo i soldi secondo la mia idea quest'anno ha fatto una squadra di tanti giovani e ne stanno pagando le conseguenze è un salto di qualità che non è riuscito a fare il Borgotaro si trova dopo tanti anni di lavoro si trova una squadra giovane quasi tutti di Borgotaro penso tranne qualcuno di Pontremoli parlando e sta facendo i risultati e io dico che la Bedognese se terra duro con questi giovani con questa politica con questa politica e cosa succede con questa politica facendo giocare i giovani facendo giocare la gente del posto la gente va a vedere le partite io sono andato una volta alla Bedognese quando ero in prima categoria parliamo di 5-6 anni fa c'era 4 gatti non c'era gente c'era 5 persone del Pontremoli e ho detto ma la Bedognese sta qua il Bedogno o contro chi giochiamo? erano tutti di via e poi è successo quello che è successo comunque qui dobbiamo dare merito alla società che si dà da fare ma anche ai genitori dei ragazzi io vorrei fare un ringraziamento io vorrei che un giorno ci fosse una trasmissione magari adesso quando i campionati sono finiti proprio con quasi tutti i ragazzi delle giovanili della Valtarese del Bedonia del Borgotaro insomma fare una trasmissione con i ragazzi e con qualche genitore sarebbe utile capire ma sì certo io voglio dire che ringraziare i genitori perché una società come può essere la Bedognese può essere il Borgotaro non riesce da solo a fare quello che stiamo facendo noi e c'è bisogno dei genitori se non c'è seguito con i genitori finiscono anche le giovanili qui hanno preso hanno preso a cuore questo sport diciamo il calcio che forse è l'unico sport all'avanguardia nelle nostre zone e ci si danno a fare però è la società che si dà da fare soprattutto che riesce a intrattenere i genitori facendo qualche festa con i genitori facendo una cosa da stare insieme da divertirsi sia i genitori che i bambini io penso che sia la cosa migliore le squadre che non hanno io dicevo prima le squadre che non fanno giovanili finiscono quando finiscono i soldi che non ci sono più sponso o che c'è uno che veramente ne ha da buttare via finiscono perché il calcio è diventato così poi nelle nostre zone che soldi ne girano poco se non giochiamo sui giovani che è quasi un autofinanziamento giovane perché non costa nulla perché la Valtarese sì che ha sempre fatto dei ragazzi giovani ma li mandava teneva qualcuno buono e poi gli altri li mandava qui non so a Cumpiano come sta facendo a Valgotra o qualcuno col Borgotaro però si è trovata che dover fare una squadra di giovani però adesso stanno pagando sì perché tu dici una squadra di giovani tutti insieme in un sol botto è dura è quello che poi diceva Brintani che vai conto delle squadre che sono diciamo allergiovanili hanno più scelta perché un ragazzo che deve venire da Parma qua se non lo paghi non ci viene voglio dire però se giocano giù con 30 km si possono muovere come vogliono è una spesuccia ma chi è che va prendendo un ragazzo da Parma che viene a giocare a Bedogno o a Borgotaro se non ci dai qualcosa non vengono se sono buoni giocano giù voglio dire solo una volta venivano perché ci davano un po' di soldi pagati però ci siamo trovati che il nostro calcio sta andando un po' a rotoli per queste cose è stata una politica probabilmente io dico sbagliata perché se si puntava sui giovani chi punterà sui giovani avrà un futuro la Bedognese credo che su questo campo sta facendo bene penso che riuscirà ad arrivare a via in alto poi torneremo sui giovani nell'ultimo giro a te voglio chiedere fino a questo momento come giudichi obiettivamente il tuo campionato il tuo personale campionato il mio personale campionato no io parlo per la squadra in senso che io sono un componente della squadra mi sento all'interno del gruppo ma tu ti senti di aver dato tutto beh io adesso oppure c'è stato un momento che per cause non tue ma che uno a volte può essere fisicamente anche così non rispondere alle sollecitazioni che arrivano da qui no no sicuramente abbiamo un gruppo dove si impegnano tutti anch'io mi impegno molto questo l'hai messo infarinato bene no dai dai io facendo un tipo di lavoro che non mi permette sempre di allenarmi però quando posso cerco sempre di stare con la squadra e comunque siamo ci impegniamo tutti c'è tanta gente che lavora via che viene allenamento si impegna infatti questi poi dopo si portano a carriera ecco il tuo allenatore e i tuoi dirigenti dicono è molto importante il venerdì insieme eh sì noi siamo siamo un bel gruppo come ho detto prima siamo amici ci ritroviamo spesso e il venerdì sera è importantissimo dopo allenamento ci ritroviamo è un momento per fare il gruppo per cominciare il weekend per arrivare la domenica a belli carichi per affrontare la partita nel migliore dei modi ecco a te invece ho una domanda molto imparazzante in questo caso puoi rispondere o no nel senso che non c'è problema da qualcuno ti aspettavi qualcosa in più dei tuoi giocatori che Mareno è riuscito a darlo non per cause sue dirette ma indirette e qualcuno ti ha sorpreso oltre le tue previsioni? domanda un po' imbarazzante perché se vuoi i nomi dopo diventi imbarazzante no puoi non farli dici qualcuno sì però non mi sottrago mai di solito le domande quindi dico sì da qualcuno mi aspettavo di più gliel'ho anche detto e non faccio nomi qua in tradizione però chiaramente nello spogliatoio è anche più che altro diciamo così a tu per tu stimolo io sono un dirigente un dirigente un dirigente sportivo a tutto campo quindi mi occupo anche un po' di cose tecniche quindi cerco sempre di stimolare i giocatori e li sprono perché qualcuno non sta dando tutto quello che potrebbe dare questo sicuramente per Michelangelo devo dire che lui aveva smesso di giocare molto giovane era nelle nostre giovanili anche poi l'abbiamo recuperato da due o tre anni sta facendo un po' fatica sul campo però è un ragazzo d'oro per quanto riguarda il gruppo è fondamentale per noi quindi lui sta dando tutto quello che può è migliorato molto da quando ha ripreso ormai sono tre anni che ha ripreso e quindi sono molto contento stasera l'ho portato molto volentieri come premio come premio sì diciamo che come sorpresa anche come sorpresa c'è qualcuno che ha dato qualcosa in più ma anche qua non faccio nomi per non però diciamo che nel complesso sono contento anche se ripeto qualcosina di più potevamo avere voglio tornare al basket velocissimamente prima dell'ultima domanda perché poi andiamo in chiusura dopo di noi ricordo Atlas questa tradizione fantastica che così dà la possibilità a tutti noi di vedere le immagini più spettacolari belle ma anche che senza di questa trasmissione riusciremo a godere dell'amico Jean-Louis che va in onda appunto dopo di noi per quanto riguarda questa trasmissione invece replica domani alle 17.30 e su videotaro.it come quando vorrete da domani per cui sarà importante anche questo a te voglio chiedere un commento sulla Robi Profumi che ha battuto un'avversaria piuttosto importante 71-60 la Libertas Bologna sì ho sentito io domenica purtroppo non ho presenziato questa partita anche la Robi Profumi diciamo sta andando abbastanza bene sono un gruppo di ragazze anche qua giovani molto giovani tante del posto alcune anche anche di via stanno dando atto alle loro capacità comunque di gioco quindi credo che anche l'allenatore avendo cambiato allenatore sia contento lui ma siano contenti anche loro a livello personale ecco molti dicono gli intenditori di basket che quello che manca alle nostre squadre nella Valtarese è appunto la lunghezza sì è vero o no? è vero noi e voi come rispondete vi sentite un po'? noi la mettiamo sempre sulla velocità sul contropiede però fondamentalmente quando ti scontri con squadre che hanno i classici lunghi i classici pivot noi facciamo fatica essendo tutti ragazzi giovani e diciamo con fisici inferiori perché quando incominci a trovare gente di un metro e 95 due metri fai fatica noi adesso abbiamo sempre il nostro gran capitano Oppo che ci dà una mano in più è arrivato un nuovo ragazzo di Parma Giacovazzo e iniziamo diciamo a mettere su anche noi delle belle montagne sotto canestro e farci sentire così anche per dare più riposo tra di loro Il tuo lato più forte a livello di basket professionale è quello più debole qual è? Diciamo partiamo dal più debole diciamo che dovrei stare più zitto con gli arbitri diciamo dovrei riconosci sì riconosco che come mi è molto criticato ammetto che è vero anche se a mio diciamo a mio favore devo dire che sono migliorato nell'ultimo periodo comunque posso diciamo ulteriormente migliorare e invece lato positivo diciamo l'uno contro uno per battere l'avversario per attaccare l'avversario fino a canestro Allora prima dell'ultima domanda voglio ringraziare ZM Infissi questa grande professionalità di questa azienda che vi fa risparmiare e che con Fistral naturalmente è la numero uno del settore ricorda gli incentivi fino al 65% un grande risparmio ZM Infissi che la trovi in via Pieve a Borgotaro e in via Roma a Bardi telefono 0525 96627 338 9676980 e vi risponde direttamente Massimo Zucconi che è il titolare sabato 5 dicembre grande festa a Borgotaro perché si inaugura Stile di Vino Bar Paneloteca Wine Bar con musiche sorprese Stile di Vino in Piazza Farnese 4 a Borgotaro Borgo Video di Cacchioli Paolo se hai problemi al PC non ci sono problemi perché Borgo Video risolve tutto vendita assistenza personal computer naturalmente tutto Borgo Video per capirne di più basta telefonare all'amico del computer Cacchioli Paolo 0525 916200 oppure 389 1979202 una grande promozione dicembre 2015 nel negozio amico della telefonia Borgotel Wind Team Vodafone in questo mese grandi occasioni una nuova opzione telefono incluso Wind che puoi avere con un piccolo contributo mensile per cui una cosa estremamente importante Borgotel ha anche il sistema per trasferire e salvare i dati sul tuo smartphone o tablet molto interessante buone feste e Borgotel lo trovi in via Nazionale 2 a Borgotaro e puoi anche trovare il modo di fare il giusto regalo di Natale allora ultima domanda prima di chiudere e magari arriva anche un ulteriore risultato di Napoli Inter è questa cosa sperate nel ritorno dopo le feste per quanto riguarda i vostri rispettivi campionati un sacco di punti un sacco di punti è base e di ritrovare gli infortunati magari un sacco di punti un sacco di punti Derek come mai è stato squalificato è Derek per somma di ammunizioni accumulate ecco vedi anche un tuo collega nel calcio fa così però ci sta ci sta e per voi basket noi adesso mancano ancora tre partite sicuramente dobbiamo fare due punti questa domenica altri due la prossima settimana e poi l'ultima partita è appunto contro la favorita del campionato salso se riusciamo a chiudere in bellezza con un bel 3 su 3 6 punti e per poi aprire diciamo la seconda parte di campionato recuperando i punti che abbiamo perso durante questa prima fase Bedogna e poi te preparati perché devi dovrei dirci qualcosa che forse non è una mia domanda ma è qualcosa che senti dentro di dover dire beh per noi sicuramente è recuperare tutti gli infortunati e poi giocarsela con tutti bene sentiamo ecco Bernie che ci dici io dico che abbiamo ancora due partite Bercetto e Mercuri dopo queste due partite ci sarà la sosta la sosta speriamo che che duri un mese un mese e mezzo e di avere tutto l'organico completo poi vorrei dire una cosa noi siamo quarti quarti finale nel Balisciano io penso che col Mercuri la giochiamo in casa fra la prossima non questa domenica domenica c'è Bercetto diciamo Bercetto venerdì sera giochiamo a Bercetto giochiamo in notturno perché loro hanno dei problemi hanno voluto anticiparla col Mercuri in casa vedremo questo Mercuri sia veramente forte come dicono dopo di che vedremo poi di giocarcela noi speriamo speriamo di giocare col Mercuri nel Balisciano di riuscire a fare il risultato è una chance in più per poter per sperare andare in seconda certo io dico che se rientrano tutti gli infortunati possiamo giocarcela poi vedremo vai tu come vedi io dalla seconda parte del campionato mi aspetto di fare tanti punti e voglio dire ai ragazzi che l'anno prossimo io voglio fare un altro tipo di derby non il derby che ci sono quest'anno ma io spero proprio che secondo me ce lo meritiamo e dobbiamo fare un grande campionato e vogliamo vincerlo bene è deciso mi fa piacere che abbia questa questa decisione questa determinazione io anch'io mi auguro di insidiare fino alla fine il Real Baganza e comunque di arrivare come obiettivo minimo a giocarmi i playoff per l'eventuale promozione poi sarà il campo a decidere sarà il campo a dire la verità su questo campionato come al solito allora l'ultima domanda è divertente quella inerente al campionato di calcio di Serie A chi vuole rispondere rispondere chi sempre una Zerenà l'Inter è uno in meno ah è espulso l'agattolo ai 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 Mancini chissà allora adesso è l'ultima domanda che è questa secca per voi la vincitrice del campionato di Serie A prima di fare tutto questo voglio dire che la prossima settimana prepariamoci perché sarà una puntata tosta perché la Valtarese ha promesso di essere qui hanno promesso di essere qui il presidente mi ha così assicurato che sarà presente o lui o chi per lui ha confermato l'amico Fabio o Aldo al secolo Aldo Borzoni e naturalmente Ivan Martini per cui solo con questi tre elementi calcistici c'è una trasmissione davvero importante ecco io ringrazio sempre alcuni personaggi che ci hanno dato l'opportunità di avere in primis Marcello Gazzola di fare di questa trasmissione un chiacchiericcio da bar ma è la cosa che intendavamo fare e adesso a voi è naturalmente la risposta all'ultima domanda chi vince il campionato di Serie A? io tifo Juve quindi dico Juve benissimo anche io da buon Juventino credo in una gran rimonta della vecchia signora stessa cosa io da Juventino no no mi arrendo io ormai questa domanda la eliminerò perché così io prima di dire chi vince il campionato vorrei fare un ringraziamento alla trasmissione grazie e al mio presidente che mi ha spinto a venire a questa trasmissione alla quale vedo tutte le volte che la fai lunedì e sono molto attaccato niente per il campionato io io sono un Juventino ma dico Napoli Roma Juve anche io dico Napoli Napoli dico Napoli però non scordiamoci la Juve perché io l'avevo detto già la prima volta che sono venuto la Juve non è finita da milanista dico non è finita allora prima di cedere alla palla ringrazio Contini Petroli la Conadi di Avalli Macelleria Savani la Bottega del Pane degli amici Binacchi Alessandro tutto il suo staff Gelleria Romano Cattolica Assicurazione di Chiodi Lidia Centro Atlantide Abedonia Nunzettini Impresa Edila Borgotaro Casificio Borgotaro Ponte di Scodelino Metà a Bedonia naturalmente Centro Edile di cui ho menzionato abbiamo menzionato per tutta la trasmissione a Borgo Valditaro Autoscuola Borgotarese Immobiliare Valtaro Zeta Evin Fissi Macelleria Quina Brugnoli Combeck Grande Sponso della Valtarese Stile Divino Borgotel e Borgo Video a voi tutti una buona proseguimento di serata adesso vi lascio con le immagini più belle al mondo Atlas alla prossima Borgotel